Perché Fedez e Achille Lauro hanno litigato? I due artisti non si parlano più, ma cosa è successo fra loro? Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Secondo alcune indiscrezioni di Dagospia fra i due cantanti ci sarebbe grande maretta. Ma cosa è successo? Leggi anche, Fedez e Ilunga Axe perché hanno litigato? Qual è il vero motivo del litigio? Cosa c'entra Fabio Rovazzi? Tutta la verità perché Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Achille Lauro e Fedez ci hanno fatto cantare e ballare a suon di mille, la loro hit di successo in compagnia di Orietta Verti. Oggi però la loro energia e la loro amicizia sembrano più lontane che mai. Ma perché? Secondo quanto riportato dal noto portale Dagospia, i due artisti sono stati avvistati durante la sfilata di Gucci, alla Milano Fashion Week, a debita distanza. Inoltre sembra che Fedez e Achille Lauro non si siano scambiati mezza parola o un saluto, seppur da lontano. I dettagli né il marito di Chiara Ferragni, né tantomeno Achille Lauro hanno parlato di presunti litigi fra loro, ma che qualcosa non vada è ormai chiaro. Nei giorni subito successivi alla sfilata di Gucci, comunque, rapper in una puntata di Muschio Selvaggio si è detto molto deluso da un collega, di chi parlava? Forse proprio di Lauro? Purtroppo la certezza non l'avremo mai, almeno finché uno dei due non si deciderà parlare. Cosa è successo fra loro? Lo scopriremo prossimamente, seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!